Nelle azzurre sere d'estate andrò per i sentieri, punsecchiato dal grano, a pestare l'erba tenera. Trasognato sentirò la sua frescura sotto i piedi e lascerò che il vento mi bagni il capo nudo. Io non parlerò, non penserò più a nulla, ma l'amore infinito mi salirà nell'anima e me ne andrò lontano, molto lontano, come uno zingaro, nella natura, felice, come con una donna. A cosa stai pensando, corto? A d'Arthur Rimbaud, un poeta francese. In questo momento non riesco a pensare ad altro. Son nom de baptême è Ugo Pratt, senza H e con un solo T. Il è nato in Italia il 15 giugno 1927. Il è mort in Suisse il 20 aouto 1995. Il ha vécu 24 518 giorni, tutti così intensamente vécu qu'il è possibile di vivere, e dessiné più di 15 000 planches. Son storia è quella di un uomo che ha creato un uomo. E' un uomo che ha marato il primo di una era nuova di la bande dessinata. La storia è un uomo che ha creato 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 un uomo.